Carabinieri? Sono il maresciallo De Santis! Qui il casino! Ma c'è! Calma, calma, calma! Mantenete la calma! Allora, dove siete e cosa è successo? Dunque, la situazione è questa, siamo a casa della signor Lorusso e la moglie ha coltellato il marito venti volte. Psst! Collega! Quante volte? Venti volte! Sì! Venti volte! Poi l'ha sparato e ha dato fuoco al marito! Perché questo è entrato, diciamo, a casa mentre il pavimento stava ancora bagnato! Che la signora stava lavando, capito? Assurdo! Assurdo! Oh! Che è successo? C'è una donna, ha coltellato il marito venti volte! Ehi! Gli ha sparato, gli ha dato fuoco! E tutto questo perché era entrato in casa col pavimento bagnato! Ma questo è pazzo! Scusi, dammi cuore! Scusi, colleghi, ma che aspettate di arrestarla? Stiamo aspettando che asciuga per terra! Sta bagnato il pavimento ancora! La signora stava... Non vorrei capito! Ah! Che è... Stanno aspettando che sia asciuga il pavimento! Non vorrei capito!